scegliete una posizione comoda e rilassata portate l'attenzione al centro del petto del cuore dando spazio alla vostra capacità di sentire ora sentite il dolore che avete causato a voi stessi nel passato attraverso i vostri pensieri le vostre parole le vostre azioni il dispiacere per tutte le volte in cui avete ferito qualcuno con i vostri pensieri parole e azioni quando affiorano i ricordi accogliete ogni immagine sensazione corporea e pensiero senza rifiutarli o giudicarli anche se sono molto dolorosi provate a sentire che cosa significherebbe lasciare andare il senso di colpa l'ansia il giudizio di sé che cosa significa in questo momento perdonare chiedetevi che cosa potrebbe voler dire abbandonare il fardello del passato e rimpianti a esso legati mentre ripetete le seguenti frasi portate l'attenzione al cuore mi perdono mi perdono mi perdono per il male che mi sono fatto attraverso la paura il dolore e la confusione mi perdono per i pensieri le parole le azioni che mi hanno fatto soffrire mi perdono per il dolore che ho consciamente o inconsciamente inflitto ad altri ripetete queste frasi per vari minuti portate l'attenzione alle parole e sentite il senso di liberazione che comportano mentre ripetete le frasi riflettete sulla possibilità di lasciare andare totalmente il passato quando affiorano ricordi e pensieri che portano senso di colpa e risentimento e il rimpianto si profila all'orizzonte lasciate correre queste emozioni e riportate l'attenzione al centro del petto e alla vostra volontà di perdonare quando vi sentite pronte aprite lentamente gli occhi e sciogliete la posizione e riportate l'attenzione al centro del petto e alla vostra volontà di perdono